Ecco i vincitori del quiz bandiere del mondo precedente. Eliego Miscec ha indovinato per primo, Bulgaria, Ecuador, Isole Kuk, Romania, Emirato di Bukhara, Regno di Islanda. Cristian Alasino 5 ha indovinato per primo, Guatemala, Islanda, Lettonia, Libano, Inno della Repubblica Socialista di Romania. Un utente di Youtube ha indovinato per primo, Guinea. Bepi 39 ha indovinato per primo, Uzbekistan, Grande Libano, o Libano francese. Bepi 39 e Mirza li hanno indovinato per primi e pari merito, Repubblica Socialista di Romania. Bepi 39 e Mirza li hanno indovinato per primo, Bepi 39 e Mirza li ha raggi Grazie a tutti. Grazie a tutti.